È una satisfazione molto importante per me di rappresentare il mio paese nazionale assolutamente. Penso che da piccolo sognavo con questo momento e grazie a Dio è arrivato in una buona maniera. Penso di continuare lavorando troppo per continuare a la nazionale. Il derby è una partita che è la prima partita che ha giocato contro il Genova, ha sido molto intensa e sicuro questa volta sarà uguale e sicuro lavoriamo tutti insieme per la vittoria. Grazie. 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 Grazie.